Il solvente più potente, lo sgrassante più astringente, e di polvere in fustino versi a dentro al lavandino, dentro quale mani metti questa acqua pericchiata, l'olio denso di insalata, una pentola incrostata, e del grasso di porcello che scegliamo nel labello. Le tue mani rischiano cattivi incontri, per questo Marigold ha creato i guanti adatti per tutti i lavori di casa. Marigold protegge le tue mani dai cattivi incontri. Marigolda!